Molti paesi senza nemmeno un medico né una farmacia, mentre buona parte della popolazione anziana e durante la pandemia non ha potuto curarsi a eccezione dei casi urgenti, mentre le liste d'attesa per una visita o un esame in ospedale si fanno pesanti. Nel Cremasco poi su 30 comuni mancano 18 medici, nel Casalasco e nel Cremonese la situazione è solo un poco migliore. Nei giorni di sabato e festivi la difficoltà si fa particolarmente grave, ma sono ben 62 i posti da medico di famiglia non coperti sul territorio, una carenza che si è accentuata durante la pandemia, come ha fatto sapere il Pirellone due settimane fa. È stato difficile, infatti, negli ultimi mesi essere operati di appendicite o ernia, ottenere un appuntamento per una mammografia e persino dei malati di tumore in stato di metastasi hanno stentato a trovare un posto letto, decidendo alla fine di recarsi in altre province, malgrado la scomodità del viaggio per i familiari. È un problema di sistema che si riscontra in tutta la Lombardia, mette per la funzione pubblica della CGL il segretario Sabrina Negri, che da anni sottolinea le difficoltà in cui si trova la rete della medicina territoriale fra 112 comuni, molti sotto i mille abitanti, con numerose frazioni, cascine e case sparse di fronte a una sanità che cambia continuamente, tra una riforma e l'altra, riorganizzazioni, cambiamenti di sedi, uffici e reparti ospedalieri. La CGL ora però fa notare che da anni i medici di base devono assistere 1.500 pazienti l'uno senza poter contare su alcun sostegno di ATS Valpadana. La CGL ora vorrebbe comprendere a che punto è arrivato il confronto tra ATS e Regione e a quali strumenti la TS intende ricorrere, dato che deve provvedere alla programmazione del servizio per proprio dovere istituzionale.